Ciponia ideosolana, Alexander Kruse Ciponia ideosolana, Alexander Kruse Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Non mi perdono, che non mi perdono. E tu fai un pollo, che non mi perdono. E che non mi perdono, che non mi perdono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.